che linea spiancata da morire e i cuscinetti dove sono finiti adesso lo scopriamo non si sentono cuciture che mutandine venite con me provatele sono linea bella l'epel le nuove mutandine che vi danno una linea più bene sexy comode sono fascia unica senza cuciture per modellare fianchi e pancia linea bella l'epel a fascia unica oggi a un nuovo prezzo faboloso